Un buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di economia, sostenere la piccola e media impresa per dare forza alla ripresa economica. E' l'appello, questo lanciato dalla CISL, Abruzzo Molise, che parte da uno studio condotto dall'economista Pino Mauro. A pesare è ancora la stretta sul credito agevolato. Alfredo Primante. Mancano ancora 14 mila posti di lavoro per tornare ai livelli occupazionali pre-crisi, cioè prima delle 2008, ma il numero degli occupati in Abruzzo comunque registra un segno più per 37 mila unità. Lavoro, però, molto spesso precario, che si concentra in alcuni settori specifici, agricoltura, servizi, alberghi e ristorazione. L'analisi dei dati, fatta dalla CISL e dall'economista Pino Mauro, al di là delle cifre, mette in evidenza come il tessuto produttivo regionale risenta ancora della scia negativa della crisi globale, con un territorio che resta poco attrattivo e scarsamente competitivo. La lieve ripresa, prosegue ancora la CISL, è legata agli sforzi produttivi delle grandi imprese, ma, sottolineano, non basta una sola gamba a trainare il PIL regionale. Tutto il settore della piccola impresa, che rappresenta i due terzi, vive ancora una situazione di estrema difficoltà legata alla stretta creditizia. I dati, infatti, parlano chiaro. Solo le BCC hanno aumentato di circa il 2% i prestiti alle aziende, mentre il sistema bancario nazionale, a seconda delle sue dimensioni, pone il segno meno davanti a cifre che variano dal 3 al 28%. Urge, dice la CISL, un patto sociale con il sistema bancario. Credo che ci sia la necessità di una forte azione da parte della politica, e in particolare dello strumento programmatorio che potrebbe avere la FIRA, per creare un patto con il sistema bancario, che deve ridare assolutamente ossigeno e fiato a queste imprese, per crescere e per fornire anch'esse grande occupazione stabile alla nostra regione. Ci sono poi i masterplan, il patto per lo sviluppo, che sono rimasti inattuati. E in quei progetti che noi abbiamo approvato sulla carta insieme alla Giunta, ci sono grandi cantieri da dover aprire in termini infrastrutturali, materiali e immateriali, e anche a livello di progettazione complessiva per le imprese, che però non decollano, non sono cantierati. Noi lamentiamo questo stato di cose, non so per quali elementi ostativi, ma sicuramente se non decolla quello, l'Abruzzo crescerà sempre meno di tutte le altre regioni del centro e del sud dell'Italia. Ci spostiamo adesso a San Salvo, perché la Wilm sollecita le istituzioni a lavorare già da subito per spingere il gruppo giapponese che controlla la Denso di San Salvo ad investire sullo stabilimento del Vastese per i prossimi prodotti destinati all'elettrificazione dell'automobile. Secondo il segretario di Chieti Pescara, Nicola Manzi, ovviamente della Wilm, occorre vincere la concorrenza degli altri stabilimenti europei per mantenere un discreto livello occupazionale. All'Adenso di San Salvo si è votato il rinnovo del RSV, praticamente la situazione a livello numerico è rimasta la stessa rispetto alla situazione precedente. Certo, i lavoratori hanno premiato il lavoro fatto dalla precedente RSU, pertanto quattro RSU alla Wilm, quattro RSU alla Fismicis, tre alla FIOM e uno al Fismic. Le organizzazioni rimangono soddisfatte, qualche voto in più per tutti e stiamo bene. La Denso però vive un anno che spartiacque perché il mondo dell'automobile sta cambiando, si vira verso l'elettrico e dunque bisogna intercettare questo nuovo mondo che avanza. La Denso del 2018 dovrà decidere dove fare investimenti sull'elettrificazione, per cui noi abbiamo due ordini di problemi. Il primo è la concorrenza a livello europeo con stabilimenti presenti in Spagna e in Ungheria e il nostro che sta a San Salvo. Per cui il giapponese deve decidere dentro questo anno dove fare investimenti e soprattutto su quale stabilimento allocarlo questi nuovi investimenti sull'elettrificazione. L'altro problema invece viene dal passato. Noi abbiamo un prodotto ormai vecchio che è quello dell'alternatore A115 che occupava circa 150 addetti. Purtroppo se andiamo seguendo il mercato il vero rischio è che ci troveremo a breve non solo con quelle eccedenze di personale, ma ci troveremo con un nuovo prodotto se lo acquisiamo dell'elettrificazione che avrà bisogno di meno manodopera. Ecco, l'invito alle istituzioni a muoversi per tempo, a non aspettare che il problema si presenti. Assolutamente sì. La politica di presentarsi al capezzale delle aziende morte o decotte in chiusura diventa veramente l'aberrazione di chi vuole fare politica, di chi vuole amministrare una regione così importante. Per cui noi dobbiamo incalzare tutti insieme, sindacati, istituzioni, politici, i giapponesi affinché decidano di puntare su San Salvo e lo stabilimento denso della provincia di Chieti. Stabilimento denso che è strategico insieme alla Pilkington per quell'area? Pilastro portante dell'economia vastese, bisogna stare molto molto attenti per cui alla regione Abruzzo va mandato un chiaro messaggio bene tutte le attività che sono state fatte fino ad oggi seppur i risultati delle vertenze sono sotto gli occhi di tutti, ne abbiamo risolte ben poche per cui in questa fase bisogna anticipare e investire prima per poter garantire continuità occupazionale e produttiva non solo la denso ma tutti gli stabilimenti presenti sulla nostra regione. Cronaca adesso, un uomo di 60 anni, Cesare Gian Giacomo originario di Francavilla e residente a Paglieta è morto in un incidente stradale lungo la provinciale che attraversa Contrada Torre di Paglieta. Secondo i primi accertamenti, l'uomo viaggiava a bordo di uno scooter Yamaha e ha perso il controllo del mezzo per evitare una mieti trebbiatrice che aveva svoltato da un incrocio. Vediamo. È Cesare Gian Giacomo, 60 anni, la vittima dell'incidente stradale avvenuto a Paglieta. La dinamica è ancora da accertare da parte dei carabinieri della compagnia di Atessa. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo che viaggiava sul suo scooter Yamaha X-Max subito dopo una curva si è trovato all'improvviso una mieti trebbia che usciva da una stradina laterale. Gian Giacomo potrebbe essersi spaventato e quindi aver perso il controllo del mezzo. Non ci sarebbe stata una collisione tra scooter e mieti trebbia ma le indagini proseguono per eseguire tutti gli accertamenti da parte dei carabinieri. L'incidente mortale è avvenuto in località Torre e sulla strada provinciale alle 8 del mattino. Gian Giacomo, originario di Francavilla al Mare e residente a Paglieta, è sbalzato dallo scooter finendo a terra. L'uomo è morto sul colpo. Il mezzo è stato scaraventato a circa 20 metri di distanza. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno solo potuto constatarne il decesso. Gian Giacomo lavorava in Sebel, in Val di Sangro, dove faceva il manutentore. Quando è accaduto l'incidente, stava scendendo a valle, verso Torino di Sangro. Cambiamo argomento adesso. Una Santa Messa è stata celebrata dal priore di San Gabriele insieme con il parroco di Farindola a 18 mesi dalla tragedia dell'hotel Rigopiano. I familiari, grazie ad un permesso della magistratura, per la prima volta hanno varcato i cancelli dell'area dove sono stati ritrovati i corpi per un momento di preghiera e per lasciare un fiore in servizio di Vestina News. Il 18 gennaio 2017 e il 18 luglio 2018 sono appena passati 18 mesi da quando una valanga ha distrutto l'hotel Rigopiano qui nella località Rigopiano del comune di Farindola e oggi per la prima volta si sono aperte i cancelli di quell'area posta sotto sequestra da parte del Tribunale di Pescara per una messa dedicata alle 29 vittime. Tanto dolore soprattutto, ma nelle parole del parroco, nell'omelia, tante parole di coraggio riflettendo sulla lettura del Vangelo di Luca riguardante la resurrezione di Gesù Cristo. Rientrare per la prima volta e vedere quello che è veramente accaduto, esserci proprio a due passi, che cosa ti ha fatto entrare ancora di più dentro? È stata, appunto come dicevi tu, la prima volta che entriamo dentro, è stata una sensazione abbastanza brutta e ringraziamo la procura che ci ha permesso, i carabinieri che ci hanno permesso di fare questa manifestazione ai 18 mesi all'interno dell'area che è ancora sotto sequestro. Il ricordo è ancora forte e speriamo che lo sia a lungo. Adesso ormai penso che manchi poco alla conclusione dell'indagine, quindi a quello che sarà poi la battaglia che ci aspetterà da qui a un bel po' di anni. Stanno lavorando in maniera buona e dritta, stanno andando verso una direzione che è quella che continuiamo a dire noi dal primo giorno e non possiamo far altro che ringraziarli per il momento. Continuare ad avere delle giornate così, tutti insieme, comunque un comitato forte, che cosa significa? Significa unione tra di noi che ormai siamo diventati una grande famiglia e significa continuare a ricordare che le persone che sono decedute purtroppo quel 18 gennaio sono ancora con noi e che saranno con noi per sempre e soprattutto spero tra poco tempo in aula. Vederlo dal di fuori è una cosa, ma vederlo direttamente qua è una cosa che ti colpisce il cuore. Siamo a pensare quando hanno potuto soffrire i nostri figli. Purtroppo speriamo che giustizia venga fatta. Il nostro paese da quando è successa disgrazia è morto. Non ci sta più vita, non ci sta più voglia di fare niente. Tutte le strade, nessuno pensa a questo paese, nessuno. La provincia, la regione, si potrebbe fare qualcosa, ma lo devono fare i politici. Noi che possiamo fare? Nuovo senso civico con un lavoro certosino sulle carte ha individuato il cambiamento delle distanze dai centri abitati degli impianti di trattamenti dei rifiuti rispetto alla legge regionale numero 5 del 2018. La modifica è passata in Consiglio ai primi di luglio con la ratifica di una delibera di giunta di aprile. Tornano in ballo decine di progetti fermi da anni e l'Associazione Ambientalista lancia l'allarme. Nessuno può dire con certezza quale sia ad oggi in Abruzzo la distanza da rispettare per l'installazione degli impianti di rifiuti. Stando alla legge regionale approvata a gennaio, la numero 5, la distanza da centri abitati, scuole e ospedali dovrebbe essere di due chilometri. Ma una delibera di giunta di aprile, approvata dal Consiglio con un fuorisacco lo scorso 2 di luglio, ha rimesso tutto in discussione abbassando le distanze. Per l'amianto si scende a un chilometro, stessa cosa per l'incenerimento dei rifiuti urbani, mentre per il condizionamento dei fanghi si passa 500 metri. Ad accorgersi della modifica passata in sordina anche a buona parte delle opposizioni, è stata l'Associazione Nuovo Senso Civico, che studiando le tabelle e confrontando le due norme, ha notato la strana differenza, forse frutto dell'attività di lobbying portata avanti dai privati che intendono aprire in regione impianti di trattamento dei rifiuti. Conoscevamo le distanze chiaramente contenute in questa tabella, contenuta nella relazione al piano. Quando siamo giunti alla tabella non abbiamo più trovato le distanze che erano previste nella legge 5 del 2018 ed erano sicuramente evidenti le differenze in negativo per le popolazioni, perché sono previste delle distanze molto più ridotte. E questo ci ha estremamente sorpreso, anche perché la questione delle distanze non è una questione che rileva i fini della incostituzionalità o meno del provvedimento che contiene il piano, cioè della legge 5, che di fatto sembrerebbe aver innescato questo nuovo iter amministrativo. Quindi è stata una scelta, non conosciamo l'autore di questa decisione, che è una decisione politica. Quello che bisognava fare è abolire la legge e fare eventualmente una libera di giunta correttiva, se non che questo era un altro problema. Avrebbe provocato un problema che nel momento in cui la legge venisse abolita si torna in procedura di infrazione, che vuol dire che non c'è più niente. Insomma, è un pasticcio clamoroso che però ha una conseguenza bruttissima. Ha la conseguenza che per aver modificato proprio i parametri delle distanze, alcuni progetti ritornano a galla dopo che non avevano superato i criteri di ammissibilità. Quindi questa è la preoccupazione più grande che abbiamo, perché non sono soltanto i pochi progetti che siamo riusciti a fermare in questo periodo, ma ce ne sono in preparazione diecine e diecine. Dal prossimo 1 agosto entra in vigore il DPC, la distribuzione dei farmaci per nome e per conto, che consentirà agli utenti di reperire nelle farmacie territoriali le medicine che prima potevano essere prelevate solo nelle farmacie ospedaliere. Aumento dei punti di distribuzione sul territorio, consistente risparmio per le casse regionali e migliore servizio per i cittadini. Sono i punti di forza del servizio DPC, la distribuzione dei farmaci in nome e per conto, che consentirà di dispensare attraverso la rete delle farmacie territoriali quei medicinali che fino ad ora gli utenti potevano reperire solo nelle farmacie ospedaliere, servizio che sarà attivato in Abruzzo a partire dal prossimo 1 agosto. Una svolta epocale, secondo l'assessore alla sanità Silvio Paolucci, frutto dell'intesa siglata alla fine del 2016 con Federpharma e Assofarm, che nel corso dei mesi successivi è stata perfezionata ed integrata. Con l'entrata in funzione della DPC, i pazienti in terapia dopo un ricovero ospedaliero non saranno più costretti a recarsi nelle farmacie dei nosocomi, ma potranno ritirare gratuitamente le medicine in una delle 469 farmacie territoriali convenzionate, semplicemente esibendo la prescrizione. I medicinali che potranno essere dispensati nelle farmacie territoriali saranno quelli per la cura del diabete, dell'infertilità femminile e maschile, alcuni ormoni utilizzati per la cura di diverse patologie, antiandrogeni analoghi dell'ormone liberatore delle gonatotropine, utilizzati anche per la cura di alcune tipologie di tumore come prostata e mammella, immunostimolanti e immunosoppressori, farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale, quelli per la cura di osteoporosi e della broncopneumopatia cronica ostruttiva. Dall'accordo per la distribuzione sono stati esclusi i farmaci che appartengono ai gruppi degli emoderivati, antibiotici per uso ospedaliero, nuovi antivirali per il trattamento dell'epatite C, antivirali per l'HIV, farmaci per la sclerosi multipla e stupefacenti, in ragione di particolari esigenze di sorveglianza e controllo delle prescrizioni. Parliamo di oltre un milione di pezzi, quindi è una misura molto importante, il servizio è chiaramente gratuito, basta esibire la prescrizione e allo stesso tempo alcuni farmaci debbono rimanere in distribuzione ospedaliera perché è bene ricordarlo, per quanto riguarda invece una categoria di farmaci è necessario avere i rilievi e i cosiddetti prelievi su una serie di indicatori del sangue o altro per i quali è necessario rivolgersi comunque in ospedale. Ci spostiamo all'Aquila adesso perché gli studenti del liceo Cotugno, rimasti senza sede dopo la decisione del TAR che ha chiuso la struttura scolastica, andranno nei MUSP e la decisione è stata discussa in una riunione tenutasi nella sede della provincia dell'Aquila. Non c'è una sede alternativa al momento, il servizio di Daniela Rosone. Gli studenti del liceo Cotugno dopo la sentenza del TAR andranno a settembre divisi nei MUSP messi a disposizione dal comune dell'Aquila e con le sapone, ma non è ancora stato individuato il luogo dove realizzare il nuovo istituto. Si è svolto in provincia ieri un tavolo di lavoro tra le amministrazioni provinciali e i dirigenti scolastici degli istituti superiori dell'Aquila. All'incontro sono intervenuti anche i dirigenti dell'ufficio scolastico provinciale e regionale. Il presidente Angelo Caruso, accompagnato dal consigliere provinciale con la delega dell'edilizia scolastica Calvisia, ha approfondito tutti i procedimenti in corso e pianificati per mettere in sicurezza le scuole in relazione a tutte le criticità che ci sono. È stato illustrato il progetto d'abbattimento e ricostruzione dell'istituto Ipsia, L'altro appalto di ricostruzione da avviare nel corso del 2018 riguarda invece l'edificio Ex-ITAS e poi si è parlato anche degli interventi di adeguamento antincegno e manutentivo sugli edifici da Osta, Colecchi e Baville per complessivi 2 milioni di euro. Il caso più spinoso resta ovviamente quello del liceo Cotugno a Pettino in via Leonardo da Vinci. Alla luce della sentenza del TAR si provvederà a mettere una parte di studenti nel polo scolastico di Colle Sapone come del resto è avvenuto già nell'anno scolastico appena concluso e una parte potrà contare invece sui MUSP che il Comune dell'Aquila ha messo a disposizione. Sull'edificio di Pettino si avvieranno i lavori sui corpi F e G e a seguire sui corpi A, C, D e E con l'obiettivo di riportare la sede alla piena agibilità. Sui tempi però non si può dire nulla, si spera che i lavori inizino subito dopo l'estate così da riavere la struttura almeno per gennaio 2019. Entro il mese di settembre però dovrebbe essere individuata anche l'area dove costruire il nuovo Cotugno con 13 milioni di euro già stanziati ma per ora non c'è neanche un'idea precisa su questo. Perché la pianificazione urbanistica aspetta il Comune che però ancora non ha deciso. Sul tavolo ci sono proposte di cui si è parlato già nei mesi scorsi Villa Gioia, Colle Maggio, è ovvio che studenti e insegnanti vogliono una soluzione e la vogliono al più presto, come dice anche il Comitato Scuole Sicure. Sono state illustrate ieri presso il Centro di Eccellenza sulla Biodiversità di Torre di Feudozzo nel Comune di Casteldisangro, uno dei sette centri di selezione equestre italiani coordinati dai carabinieri forestali. Le attività svolte a seguito di una convenzione tra Università di Teramo e il Comando Generale dei Carabinieri. Una conferenza stampa volta ad illustrare le attività già svolte a seguito della convenzione quadro tra Università di Teramo e Arma dei Carabinieri si è svolta nel Centro di Selezione Equestre di Torre di Feudozzo nel Comune di Casteldisangro. Una convenzione che ha come obiettivo lo sviluppo e la salvaguardia delle razze quine italiane portando aggiovamento sia all'Arma dei Carabinieri sia a ricercatori e studenti della Facoltà di Veterinaria che, grazie al rapporto diretto con l'animale, hanno la possibilità di apprendere in maniera più rapida quanto studiato. Presenti il Rettore Luciano D'Amico, il Presidente della Facoltà di Medicina Veterinaria Augusto Carluccio, il Colonnello Guido Castellano, a capo della Direzione Veterinaria del Comando Generale dei Carabinieri, il Colonnello Raffaele Manicone, capo dell'Ufficio per la Biodiversità dell'Arma dei Carabinieri e il Dottor Paolo Botta, responsabile del Centro Regionale di Incremento Ippico di Santa Maria Capoavetere. A seguito della conferenza, i partecipanti sono stati accompagnati e guidati lungo una visita dell'azienda e del Centro di Selezione Equestre dove i cavalli vengono allevati, nutriti e addestrati. È nata come sviluppo di collaborazioni che avevamo già avviato e della consapevolezza che abbiamo via via acquisito di poter ottenere dei risultati straordinari mettendo in sinergia le eccellenze dell'Arma dei Carabinieri, eccellenze che nel campo della veterinaria sono consolidate storicamente, eccellenze dell'Ateneo di Teramo sulla frontiera della ricerca. Insieme siamo convinti che riusciremo ad offrire non solo delle straordinarie occasioni formative per i nostri studenti, ma sia l'Arma dei Carabinieri sia l'Università di Teramo offrire una possibilità per muoverci sempre sulla ricerca, sulla frontiera della ricerca con delle aspettative crescenti in termini di risultati positivi che sono certo non mancheranno. Il meglio del mosaico contemporaneo e delle nuove tendenze interpretative in mostra a Villa Paris di Roseto fino al prossimo 31 ottobre. La rassegna oltre ai partecipanti del premio GAEM di Ravenna presenta quattro monografiche ed è stata curata da Linda Nifix e Daniele Torcellini. Vediamo. Inaugurata a Villa Paris di Roseto degli Abruzzi, la rassegna di arte contemporanea Art in Act 006. Oltre 80 le opere esposte dei 13 partecipanti al premio internazionale GAEM, Giovani Artisti e Mosaico di Ravenna e dei quattro artisti selezionati per le sezioni speciali, Dusciana Bravura, Matilda Tracesca, Sara Vasini e Bruno Zenobbio. La grande novità è la collaborazione con l'eccellente MAR, Museo di Arte Contemporanea di Ravenna per contribuire a quello che è un format creato da loro, il premio GAEM, Giovani Artisti del Mosaico che promuove l'arte del mosaico e i giovani artisti che si confrontano con questa arte ancestrale. Il GAEM qui in Villa Paris per l'Art in Act 006 viene affiancato da delle monografiche di due artisti davvero interessanti affermati nel mondo dell'arte contemporanea come Dusciana Bravura e Bruno Zenobbio. La mostra che è organizzata dalla Fondazione Cingoli in collaborazione con il Museo d'Arte della città di Ravenna, il MAR e il Centro Internazionale di Documentazione sul Mosaico, chiuderà i battenti il prossimo 31 ottobre. Io credo, insieme a Daniele Torcellini che è il nostro cucuratore, che è il mio cucuratore, credo che attualmente negli ultimi anni il mosaico abbia raggiunto una visibilità, per meglio dire, nel panorama dell'arte contemporanea che non ha mai avuto. Questo perché si è anche aperto a sperimentazioni, a contaminazioni che gli hanno permesso di superare quello che è il mosaico tradizionale, pur ovviamente meraviglioso, che è frutto di ricerca in tante epoche e anche ovviamente legato alle edifici religiosi, legato all'architettura. Il mosaico si è staccato da un abbraccio troppo stretto e si esprime nel panorama dell'arte contemporanea attraverso delle installazioni, attraverso delle opere che rispettano la sintassi del mosaico, ma non necessariamente la grammatica o i materiali tradizionali. Gli organizzatori sono già al lavoro per la prossima edizione, con l'Istituto d'Arte di Castelli e la locale amministrazione comunale, per un concorso incentrato sui giovani artisti ceramisti. Il prossimo anno abbiamo intenzione di dare spazio, voce, di essere vetrina dell'eccellenza territoriale di Castelli, della sua tradizione ceramica. Adesso apriamo la pagina dello sport e partiamo con il Pescara, gli ultimi inserimenti in rosa. Di Monachello e di Antonucci completano il reparto d'attacco dei bianco-azzurri, sfumati invece Tutino e Galano. Zampano e Brugman al momento restano inorganico e sono punti di forza di Beppi Pilon, intanto dopo l'incontro di ieri si rafforza l'asse tra il Pescara ed il Fano. Andrea Costantini Con l'innesto di Mirko Antonucci il Pescara completa il mosaico dell'attacco, colmate le lacune in termini numerici che erano evidenti nel corso della prima settimana. Con l'arrivo del nuovo centravanti Gaetano Monachello, dell'extrapani Marras di Antonucci della Roma in prestito con diritto di riscatto e controriscatto e con il rinnovo del prestito di Cristian Capone da parte dell'Atalanta, il giocatore si aggregerà al gruppo al pari del centrocampista Meleconi alla fine dell'Europeo Under-19, l'attacco è fatto. Sono tre i centravanti, Monachello, Bunino e Cocco, cinque gli esterni, Marras, Mancuso, Iamga, Capone e Antonucci. Non farà parte di questo reparto Gennaro Tutino, alla fine sul giocatore ex Cosenza ma di proprietà del Napoli a spuntarla è stato il Carpi, così come nulla da fare per Cristian Galano. Il Robben delle Puglie, già obiettivo del Delfino negli anni passati, rappresentava un'occasione last minute dopo l'esclusione dalla cadetteria del Bari, ma sul funambolico esterno si è fiondato il Parma che ha sbaragliato la concorrenza. Probabile che un altro movimento in entrata verrà fatto in caso di uscite, anche se il Delfino continua ad essere piuttosto vigile sul giovane centravanti Gianluca Scamacca del Sassuolo, anche gli impegnato nell'Europeo Under-19. I potenziali giocatori in uscita sono Cocco e Iamga, ma ad oggi si va avanti con loro, anche se il mercato chiude tra un mese ed i scenari possono sempre cambiare. I fronti principali sotto questo profilo restano Francesco Zampano e Gaston Bruckman, ma su di loro il presidente Sebastiani è stato chiaro, andranno via solo in caso di offerte importanti, con la necessità poi di essere adeguatamente sostituiti. Chi è destinato a lasciare il Pescara è Frank Canutè. Il centrocampista senegalese di proprietà del Delfino aveva militato fino a gennaio con i biancazzurri, poi il prestito all'Ascoli. Non ha preso parte al raduno in via ufficiale perché impermesso a Torino per delle visite specialistiche. Il giocatore non è mai tornato e non è stato neanche inserito nella lista di convocati per Palena. Proprio questo addio ha bloccato la cessione di proietti che sembrava vicino al Vicenza. I prossimi giorni saranno poi utili per trovare sistemazione ad elementi che sono in ritiro, ma non rientrano nei pieni tecnici, Ransford Selasi e Luca Forte. Cristian Mentola ha tanto mercato in Serie C. Ieri il presidente Sebastiani ha incontrato il Fano per fissare altri punti di questa nuova collaborazione. Il difensore Alessandro Celli, inizialmente destinato al Teramo, approderà proprio nelle Marche, alla corte di Massimo Epifani. Con lui andranno anche l'esterno della primavera, Fabio Morselli, e il centrocampista ex Ternana, Simone Tascone, che il Pescara preleverà dal Genoa per poi darlo in prestito al Fano. E in Serie C ieri il raduno per il Teramo, che oggi ha cominciato gli allenamenti in vista della prossima stagione. Il tecnico Giovanni Zichella, confermato dopo l'ultima partita con la Reggiana della scorsa stagione, spiega come giocherà il diavolo e confida di aver sempre saputo che Campitelli lo avrebbe confermato sulla panchina bianco-rossa. Mister, una panchina da capo allenatore lo scorso anno per chiudere la stagione, ora si riparte da capo, intanto immagino con grandissima carica da parte sua. Sì, hai detto bene, grandissima carica, grandissima voglia. Non vedevo di iniziare più che altro perché penso che domani mi riposo anche un po' perché stare al telefono con il direttore Federico, con il presidente, con Campaldi, è stato veramente massacrante per il mercato. Poi ogni tanto la telefonata al ragazzino per convincerlo, per venire a Teramo. Insomma è stato un lavoro veramente lungo e non è ancora concluso perché stiamo aspettando gli ultimi due ragazzini. Ragazzini speriamo di prenderli al più presto così iniziamo già quasi con la rosa completa. Domanda ricorrente, come giocherà il Teramo? Il modulo partiamo da una base anche per costruire come abbiamo costruito la squadra, il 4-3-3. Abbiamo parecchi esterni d'attacco, ma scelta proprio voluta perché il modulo può trasformarsi solo con l'avanzamento del mediano che diventa un 4-2-3-1, quindi con 4 attaccanti come abbiamo giocato con la Leggiana o può diventare anche uno schema più difensivo arretrando il mediano nella linea dei due difensori diventa una difesa 3, però rimangono sempre i 3 attaccanti davanti. Per chiudere, in quei giorni che hanno seguito la salvezza, lei insomma confidava in una conferma anche se poi ci sono state delle voci che accostavano altri allenatori. Come ha vissuto quei giorni e se ovviamente è contento poi di questa permanenza a Teramo? Noi abbiamo giocato la data esatta, non me la ricordo, il 5-6 maggio, poi abbiamo aspettato il venerdì che ci davano la sentenza che eravamo matematicamente salvi. Io poi la domenica mi sono incontrato col presidente, è venuto lui da me a Roseto, siamo stati insieme dalle 10 alle 12 e mezza, due ore e mezza, penso che sia stato un record per lui parlare con una persona per due ore e mezza. Mi ha detto cosa voleva lui da me, io gli ho detto cosa avrei voluto da lui se non a livello monetario, ma proprio a livello logistico e di squadra. Ci siamo parlati, ci siamo detti che ci saremmo risentiti dopo un mese, nel senso che io parlerò anche con altri allenatori, me l'ha detto, se deciderò di prendere te te lo comunico, se decido di non prendere te lo comunico e te lo comunico io direttamente. Poi è passato non un mese ma 20 giorni, mi ha chiamato, mi ha detto la sera, mi ha chiamato, il giorno non mi ricordo, mi ha detto domani mattina vieni a Teramo, vieni a firmare, ho deciso che l'allenatore sia te. Ma io devo essere sincero, lui avrà parlato, presidente, la società con tantissimi allenatori, però lui aveva già in mente di prendere me. Questa è la mia sensazione. Buon lavoro. Grazie. Da un tecnico all'altro, ma scendiamo in Serie D perché riparte la stagione del Francavilla con un nuovo staff tecnico guidato da Paolo Rachini. L'allenatore giallorosso parla delle ambizioni della squadra e degli scenari che potrebbero aprirsi se Bari e Cesena, escluse dalla Serie B, dovessero essere inserite nel girone delle squadre abruzzesi. Lo ascoltiamo. Paolo Rachini, siamo ormai nell'imminenza dell'inizio della stagione con il ritiro. Intanto quali sono le ambizioni della squadra e poi anche quelle di Paolo Rachini che si affaccia da allenatore a questo campionato? Le ambizioni sono le stesse, quelle di Paolo Rachini e quelle della squadra, cioè di fare un campionato importante. Penso che ci siamo, come ho detto prima, siamo mossi bene sul mercato, abbiamo fatto acquisti di spessore, quindi è normale che l'obiettivo principale è cercare di migliorare quello che è stato fatto lo scorso anno, che comunque è stato fatto un buon lavoro, una classifica importante, quindi quello che si chiede a Rachini è cercare di fare di più dall'anno scorso. Presidente, l'abbiamo capito, è ambizioso. Il Presidente è molto ambizioso, io non conoscevo veramente una persona squisita e già dal primo incontro mi ha fatto capire che comunque volevo fare bene, quindi ho detto anche prima è ambizioso come me, a me fa molto piacere e quindi ci metterò tutto me stesso per accontentare lui, la piazza e i tifosi, perché poi alla fine bisogna coinvolgere anche loro e facendo prestazioni importanti, giocando bene al calcio e facendo risultati. Soddisfatto della Rosa? È al completo in questo momento? Ma la Rosa per il momento con gli ultimi due acquisti si è al completo, manca qualcosina a livello di under, però cercheremo di chiudere in questi ultimi giorni qualche altra operazione. Ecco, nel bilancio di una stagione che sta comunque per partire, comunque dobbiamo calare quella che è la realtà attuale, cioè di squadre, di blasonate che rischiano di cimentarsi nel campionato di Serie D e avranno un impatto notevole, perché se doveste capitare in Gironi con o il nuovo Bari o il nuovo Cesena, insomma, queste sono squadre che hanno grandissimo blasone. Sicuramente saranno squadre che poi faranno campionati importanti, quindi è normale che, però io penso che, io la vedo dal lato positivo, quindi sarà uno stimolo non solo per me, per tutta la squadra e per tutta la gente che ci verrà a vedere. Ripeto, poi in campo si va sempre in 11 contro 11 e si deve sempre giocare la partita, però, insomma, io ho Bari o Cesena comunque se parliamo di realtà super importanti, quindi cambierà poco. Alla fine, ripeto, è l'atteggiamento con cui va la mia squadra in campo è quello importante. E questo era anche il nostro ultimo servizio e vi ricordo che tutti i nostri servizi sono disponibili sulla pagina YouTube di TV6 e anche sul nostro sito www.tv6.it prossimi aggiornamenti alle 19 e alle 23 per il momento vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.